Allora, poi abbiamo in offerta la Nepenthes, questa qui che è una varietà molto bella, la Monkey Jars, perché la scontiamo? Perché tra un po' perdo i fiori, quindi è meno appetibile per il cliente. Stesso discorso per i Nepenthes piccoli, perché tra un po' perdono tutti, diciamo, le loro bocche, sono meno appetibili ai clienti, allora noi li scontiamo, tanto poi rivegetteranno verso il primavera e l'anno prossimo. Abbiamo messo in sconto la Oia Vajeti, quella verde, poi c'è in sconto la Wilcoxia, detta anche pianta matita, anche questa è una pianta molto particolare, da 29 è andata a spendere poco più di 20 euro a sconto 30. All'Audio bellissima, è scontata del 50%, questa è una pianta che in Sicilia, in Liguria, così può anche essere piantata fuori. Il Senecio Rianus, che è un Euroleianus, quello tondo perfetto, questo ha la pallina leggermente schiacciata, è sempre una pianta rosario, poi ha scontato tutte le pitaie, la pianta del frutto del drago, Lio Ceratus, sia piccolo che grande. Puoi, puoi, puoi!